Garbi, lei è sempre stato critico con il Premier Conte, gli riconosce comunque una dose di coraggio e anche una capacità di leadership nel modo in cui ha affrontato la rabbia di una città, di una fabbrica, come ha fatto oggi a Taranto? Beh, gli riconosco il coraggio della disperazione, perché non ha via d'uscita, non può immaginare che è la soluzione che abbiamo davanti di poter proporre una nazionalizzazione dell'ILBA, ma non vedo altra soluzione, e dà la misura di un tentativo, ovviamente coraggioso dal punto di vista personale, di proporre soluzioni che non ha e non troverà. Per cui in questo momento ha avuto quella piccola contestazione che è legata ai diversi gruppi di operai. Tra qualche giorno avrà una contestazione sotto Palazzo Chigi, perché il problema non sarà risolto. E questo, l'altra parte, mi dispiace dover sembrare sempre sostenitore di una personalità molto discussa, ma intanto aprirò dicendo una cosa che ti stupirà. La città di Ferrara, in cui io sono il responsabile delle cose della bellezza, ha deciso di dare la cittadinanza onoraria a Liliana Segre. E il sindaco è un leghista ortodosso e salvignano, quindi ho trovato l'azione molto intelligente e molto giusta. Ma l'ha convinto lei, questo sindaco leghista, anche perché, diciamo, di questi tempi, negare una cosa di questo genere sarebbe non solo scadaloso, ma anche stupido politicamente. Io ho detto da voi che fu un errore non votare la commissione, anche se la commissione è inutile. Però è vero che, parlando con il sindaco, ho trovato in questo leghista buono, per così dire, Allora voglio dire, siccome questo serve a introdurre il fatto che si è detto, al di là del fatto che abbiano poi fratto un cordone per isolare Salvini, che lui aveva fatto un grande errore strategico, un errore terribile, perché aveva rotto presto, tardi, aveva rotto poi d'agosto, quando ha rotto. In realtà a distanza si vede che aveva ragione. Oggi parlavo con il sindaco di Casole Delsa, che è un comunista pieno di energia, che dice che il PD vero non doveva in alcun modo accettare di votare l'emendamento che ha tolto lo scudo penale, giusto o sbagliato che fosse, perché un grande partito non si fa ricattare da un piccolo partito di disperati, i quali sono arrivati lì, hanno messo il loro conte, questo è l'elemento negativo. E' finita la politica, se tu non sei capace di mantenere un accordo in nome della retorica per cui tutti sono uguali e quindi fai un accordo con qualcuno, gli garantisci uno scudo, glielo togli, certo, oggi dicono non è la ragione, però è vero che un grande partito non si comporta così. Quindi siamo ostaggio di un piccolo partito di disperati con un premier disperato. E questo lo dico perché serve anche a spiegare, vai a vedere le nostre trasmissioni, perché ha rotto Salvini, perché non puoi governare con persone che vanno dalla parte opposta alla tua, che sia opposta, che il PD ceda a quella parte, è molto più grave che non qualcuno rompa con quella parte. Quella parte deve essere isolata e dimenticata. E quella parte parliamo dei 5 Stelle. Ci arriviamo adesso ai 5 Stelle, Mariana.